Se questa partita fosse una pietanza, quale sarebbe? Questa è troppo complicata per il mio intelletto, io sono molto limitato, non sono un gran filosofo, non riesco a fare questi paragoni, mi hai messo veramente in difficoltà, che pietanza sarebbe, che pietanza sarebbe, non ti lascio proprio dire, non ho la più pali di idea, sceglila te. Una pietanza facciamo albume d'uovo e bacon, so se che schifo, non c'è qualcosa di meglio no, albume d'uovo e bacon, un'uovo proprio no, un'insalata e un petto di pollo, di più Cioè, non abbiamo qualcosa, non so, tipo una pizza, costolette d'agnello, una bella tagliata, una bella tagliata, una cosina così, insomma, un prosecco, un quale vino? No, ma che prosecco, prosecco lo bevete voi veneti, io bevo dell'Ambrusco, che sono da queste parti, e del Gutturnio, però poi si deve giustificarlo perché lui a Stemio non capisce niente, ma anch'io non capisco niente perché non bevo, per cui siamo in due, siamo salutisti, lui ha fatto l'Isef, io no, non c'entra il fatto che faccio l'Isef, non bevo poco, grazie a tutti